A Natale si può fare un regalo inusuale aiutando le api. L'azienda Agritec 3B ha avviato un progetto adotta un albero nettarifero con l'obiettivo di creare una foresta nettarifera protetta. La start-up nata nel 2017 ha come missione la protezione della biodiversità e sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. Dalla sua fondazione ha realizzato una rete di oltre 5.000 apicoltori, agricoltori e aziende. 3B nasce nel 2017 con l'obiettivo di proteggere le api e in generale tutti gli impollinatori. Abbiamo inventato una tecnologia che permette di ascoltare le api. Sono dei sensori che installiamo all'interno degli alveari e quello che ci stanno dicendo le api adesso è che stanno male. Stanno morendo a causa di carestie, di fame, di pesticidi, di agrofarmaci ma soprattutto per la mancanza di pascolo e per la mancanza di vegetazione. Abbiamo studiato le api, abbiamo capito il loro comportamento, abbiamo capito i loro bisogni. Oramai monitoriamo, studiamo, analizziamo quasi un miliardo di api in tutto il mondo, principalmente in Italia e per migliorare il benessere delle api abbiamo deciso di piantumare assieme a tutti quelli che vogliono unirsi a noi, tutti i cittadini italiani per esempio, vogliamo piantumare più di 100.000 alberi nettariferi e polliniferi. Dunque per Natale chi vuole aiutare le api può scegliere se adottare o regalare un albero che verrà piantato in Italia e potrà successivamente ricevere foto e aggiornamenti. Si può scegliere un nostro albero dal sito di 3B, si possono scegliere alberi di qualsiasi tipologia, ovviamente sono tutti alberi nettariferi, un nostro apicoltore generalmente lo pianterà nel suo terreno, lo curerà, crescerà e produrrà nettare e allo stesso tempo assorbirà CO2 che ovviamente è un ottimo modo anche per combattere il cambiamento climatico.